Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Presidente, l'edi superficie rappresenta una struttura molto importante per Sambuca e per tutto il territorio. La banca diversi anni fa l'ha realizzata, adesso l'ha affida al Comune. Intanto per la banca la cosa più importante è la comunità sambucesa alla quale noi teniamo tanto. La dimostrazione è che stamattina siamo qua per valorizzare questa importante realtà del territorio. È un'eli superficie capace di creare benessere, perché parliamo della possibilità anche di recuperare momenti di difficoltà sul piano sanitario, ma anche di crescita per il territorio. È importante quindi che rimanga al territorio, che rimanga in esercizio. È il motivo per il quale la affidiamo a migliori mani, e cioè all'amministrazione comunale che saprà anche meglio di noi farle l'uso, continuarle l'uso per il quale è stata creata. Sindaco, questo è un momento importante per Sambuca. C'è molta attenzione anche per un potenziamento, per consentire anche i voli notturni, ad esempio sull'eli superficie. Sì, e dobbiamo dire che grazie intanto alla Banca di Credito Cooperativo e al Comune che già nel passato avevano messo in atto con la protezione civile la realizzazione e la gestione di questo servizio. Oggi, con la Banca Sicana, siamo riusciti a riaggiornare tutte le autorizzazioni grazie al Comandante dei Vigili Urbani, che diventerà il responsabile di questo servizio e di quest'area, e grazie anche all'Ufficio Tecnico e alla Personale Ingegnere Trapani, che ha dato una grossa mano affinché tutte le autorizzazioni, con le regole che vengono oggi, siamo riusciti a portare avanti. Quindi penso che la Banca ha avuto storicamente un ruolo fondamentale nel nostro territorio e continua ad averlo. Quindi un grazie al Presidente e un grazie a tutti che comunque permetteranno sicuramente da qui a qualche altra settimana la possibilità di avere anche l'autorizzazione per i voli notturni. E riusciremo sicuramente, mi auguro di non avere bisogno, ma comunque ad avere un elipista che sia servizio, non solo per attività importanti come quella che stiamo vedendo oggi, il servizio di antincendio della forestale della Regione Sicilia, ma anche un servizio in caso di emergenza per soccorrere i nostri concittadini che possono avere bisogno per qualsiasi cosa. Grazie a tutti.